Siamo con Jacopo Graziani della Robur, stasera protagonista di serata con la rete che ha aperto le danze e poi assist man per il secondo gol. Come commenti la tua prestazione? Ma un'ottima prestazione, però vorrei fare i complimenti ai miei compagni perché ha lottato su ogni pallone, già dalla partita scorsa contro la prima in classifica, stiamo iniziando a ingranare e andiamo a continuare così. Tornando infatti alla giornata precedente, una vittoria di prestigio per 3-1 in casa della Pop Binzago, capolista, forse vi ha dato la scossa definitiva? Sì, sicuramente perché quest'anno siamo un gruppo nuovo, quindi abbiamo un po' bisogno di tempo per migliorare e conoscerci meglio. Però sicuramente è stato uno stimolo aver vinto contro la prima in classifica e dobbiamo continuare a lavorare settimana dopo settimana e aiutarci a lottare su ogni pallone e continuare così. Quindi se si possono fissare degli obiettivi, quali sono? Sempre una domanda difficile. Non mi piace parlare di obiettivi adesso, siamo solo all'inizio dell'anno. Sicuramente l'obiettivo più importante è quello di migliorarci, migliorarci settimana dopo settimana e poi vedremo a metà campionato dove siamo e dove saremo. Obiettivi? Lottare ogni partita per vincere sicuramente, non dobbiamo aver paura di nessuno. Va bene, allora ti ringrazio e ti faccio un bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie.